Musica Eccoci a mattina 9 stiamo mangiando bruschette tutti quanti, non solo noi Stai mangiando, stai mangiando No, no, questa volta ti ho pensato L'ho soltanto assaggiata Ti ho pensato però, un poco ti ho pensato L'ho soltanto assaggiata, l'ho assaggiata perché finalmente siamo arrivati al weekend Sì Mattina 9, insomma è stata una grande settimana, no? Grandissima settimana, contentissimi di aver trascorso questo tempo insieme a voi Anzi, ci dispiace che questo weekend purtroppo non possiamo trascorrerlo insieme Specialmente domenica che è la giornata dell'amore Ma ci riprenderemo Ci riprenderemo però lunedì penso Sì Lunedì penso che saremo ancora in onda Ancora in video Allora, andiamo con il nostro aforisma del giorno Oggi abbiamo il nostro amico Confucio Vediamo Confucio che cosa pensava del lavoro Scegli un lavoro che ami e non dovrai lavorare neppure un giorno in vita tua Sai che io da quando sono a mattina 9 Hai scelto tu questo aforisma Claudio? Sì Perché tu parli sempre del lavoro Lo scelto io perché da quando sono a mattina 9 sento di stare sempre così in feri Con la testa tra le nuvole, lui non pensa ma non lavora più È come se non stessi lavorando, mi sento talmente felice di questo lavoro Siamo felicissimi Noi vi ringraziamo ancora per i numerosi messaggi che ci inviate Per i like che cliccate sulla nostra pagina di Facebook Vi aspettiamo lunedì puntuali alle 11.30 Tutti i giorni Tutti i giorni lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì Tranne sabato e domenica Dalle 11.30 alle 13.30 naturalmente su Canale 9 Grazie Buon fine settimana a tutti Buon amore, bacini Marium Ciao, ciao Ciao Mattina 9 è stato offerto da MD